Buonasera, abbiamo un ospite importante in studio stasera, il sottosegretario alle comunicazioni Antonello Giacomelli, grazie di essere qui. Grazie a voi, buonasera. Una lunga esperienza politica parlamentare, vice sindaco di Prato e adesso nella stanza dei bottoni di quello che è un settore nevralgico per il Paese, quello delle comunicazioni, tante gatte da appelare immagino. Alcune, insomma alcuni problemi ma anche tante opportunità. Ecco, dal punto di vista del Governo è stato un fine anno importante, difficile, una legge di stabilità in cui c'è stata battaglia sul fronte degli emendamenti e poi la decisione del Governo, come dire, di andare avanti secondo quella che è una tabella di marcia che guarda anche al rispetto di certe regole imposte dall'Europa. Beh, più che imposte dall'Europa diciamo che erano un po' la linea che il Presidente del Consiglio aveva tracciato. Guardando gli emendamenti non si ha sempre la sensazione che tutti i parlamentari abbiano contezza della situazione del Paese. Non voglio usare l'espressione che ha usato Matteo Renzi, assalte la diligenza, però certo ci sono la riproposizione di situazioni molto particolari. Si nota uno scarto, ecco, tante volte tra le iniziative di alcuni e la serietà, la responsabilità con cui il Presidente Napolitano richiama costantemente all'interesse generale del Paese. Il Governo ha tenuto la barra dritta sulla legge di stabilità, tutte le risorse disponibili investite nel tentativo di una scossa al sistema dello sviluppo, al sistema economico, al lavoro, che è la nostra grande preoccupazione e quindi da questo punto di vista una linea che più che chiesta da altri è esattamente quella che noi proponiamo all'Europa. Una linea che privilegia gli investimenti sulla crescita rispetto ad ogni altro fattore. È l'idea che occorra determinare un meccanismo di sviluppo, di ripresa, di crescita, di occupazione come fattore centrale dell'azione di governo. Questa è la linea che ha tenuto il Governo nella notte, mi pare, al Senato, alla fine con la fiducia, questo è passato. È passato, un passaggio fondamentale sarà quello dell'elezione del Presidente della Repubblica. Ormai Napolitano ha fatto capire che probabilmente nel mese di gennaio ci sarà questo distacco. È una fase che ritiene in qualche modo difficile, senz'altro è delicata, difficile e foriera forse anche di una situazione che potrebbe sfociare in elezioni politiche? Io spero di no, perché condivido molto la lettura che ha dato il Presidente Napolitano nel suo messaggio di auguri alle cariche dello Stato di qualche giorno fa. Il passaggio elettorale sarebbe una perdita di tempo e un problema. Diventa difficile dirlo essendo parte del Governo, ma l'idea che la continuità dell'azione del Governo in questo momento sia un valore, a me sembra fondata su un dato oggettivo. Il passaggio dell'elezione del Presidente della Repubblica, se, come sembra, come in qualche modo lui stesso ha detto, il Presidente Napolitano sceglierà di mettere fine al proprio mandato, è sicuramente un passaggio delicato. Devo dire con franchezza, in questo momento non riesco a vedere chi possa avere quella forza, quella autorevolezza, quella credibilità presso l'opinione pubblica italiana e nel contesto internazionale che ha in questo momento Giorgio Napolitano. E' una risorsa che il Presidente ha speso a piene mani per il Paese ed è un grande privilegio che l'Italia ha avuto. Spero che prevalga il senso di responsabilità, mi pare che il PD si attrezzi all'idea di una ricerca di consenso largo, ma tuttavia attorno certamente a personalità che siano in grado di garantire, come Napolitano, una linea forte del Paese nei confronti dei suoi impegni e delle sue possibilità. Ecco, in questa fase delicata c'è anche il tema avvento delle riforme istituzionali. La sensazione che si ha un po' dalla periferia dell'impero, mettiamola così, è quella che le maggiori forze di opposizione al governo Renzi stiano in realtà proprio dentro il suo partito, dentro il PD. È una sensazione sbagliata? Ma detta così forse è eccessiva, nel senso che c'è una gran parte del partito, a me sembra, che accetta una logica del tutto corretta. Si discute con molta franchezza, anche in modo rude, negli organismi e nelle sedi in cui lo si deve fare, poi si rispetta la linea che emerge, la scelta che si fa e la si difende. Mi pare alcune posizioni tendano a dimenticare l'appartenenza a una casa comune, questo presta il fianco naturalmente a una lettura non positiva di questa fase. Io credo che dentro il PD ci sia però la gran parte dei parlamentari, dei dirigenti che ha contezza della delicatezza di questo momento. Le riforme sono un passaggio ineliminabile, essenziale, che va accelerato. È una fase che dobbiamo chiudere. Le resistenze, le lobby, le pressioni, le rendite di posizione, tutto questo non può ostacolare quello che è necessario per il Paese. Però mi pare sia davvero riducibile a pochi casi nel PD, l'elemento che non condivide questo stato d'animo. Del resto si vede nei passaggi parlamentari. C'è una grande forza complessiva del PD attorno alla sua leadership, che è quella di Renzi attorno a questa linea. E' una barra che nel Parlamento conta. Semmai, vedi, magari altre forze politiche hanno, in questa fase, hanno difficoltà esattamente dalla tenuta del PD su questo. Le crisi che ci sono dentro il Movimento 5 Stelle sono determinate dalla capacità d'azione politica nella riforma concreta che il PD e il governo manifestano. A me pare questo sia l'elemento, la capacità di contenere le spinte al populismo, al tanto peggio, tanto meglio, dimostrando che si può cambiare, si può riformare, si può superare una lentezza storica del Paese. E su questo io penso che gran parte del PD ci sia. Fra le ultime decisioni prese, quelle del turno elettorale, regionali e amministrativi, accorpato a maggio, come vede la situazione in Toscana in cui c'è un partito largamente posizionato sulla riconferma della candidatura di Enrico Rossi per il secondo mandato, ma anche se, per esempio, la componente civatiana sostiene la necessità delle primarie con Luciano Modica che ha dato la sua disponibilità. Mi pare che ci sia intanto da capire la decisione, la linea, l'orientamento di Enrico Rossi. Cioè come ripropone questa candidatura, che del resto ha avuto un endorsement importante, un'apertura importante, anche di fiducia da parte del Presidente del Consiglio. Un endorsement che tuttavia non esaurisce la campagna elettorale, è un attestato di fiducia, è un gesto che fuga ogni dubbio in ordine a chissà quali manovre. Lascia però inalterata in Toscana la discussione su quale sia il senso di questo secondo mandato. Io credo che Rossi e la sua giunta abbiano fatto molte cose buone, credo che ci siano alcuni elementi da correggere. Sono interessato a capire, a discutere su come, soprattutto l'impostazione di questo nuovo secondo mandato, recepisce le critiche che ci sono state o analizza i limiti che ci sono stati. Troverai sbagliato da un lato e si imbastissero chissà quali visioni di retroscena su manovre, candidature altre, chissà quali opzioni, tutto con letture piccole, interne. Dall'altro che si desse per scontato che l'apertura di credito di Matteo Renzi sia sufficiente di per sé a eliminare ogni necessità di riflessione. Insomma, problemi ci sono stati, siamo interessati a capire, almeno questa è la mia opinione, come il Presidente Rossi intende, riflettendo sul primo mandato, far tesoro dei limiti e degli errori e presentarsi per il secondo. Veniamo al suo settore, a quello delle comunicazioni, anche al mio, al nostro, al nostro settore. Ecco, quello del sistema televisivo è un sistema che è stato, tra virgolette, stressato dal passaggio al digitale terrestre nel 2011 e da situazioni precostituite che non dipendono certo da questo governo, che trovano nel sistema delle emittenti locali un punto debole, forse, in questo momento. Rappresentano l'avamposto di democrazia dell'informazione, ma paradossalmente le televisioni che fanno informazione sono quelle che rischiano di essere un po' penalizzate rispetto a chi informazione non lo fa, perché avere giornalisti in redazione costa. Come si fa a cercare di quadrare il cerchio? Beh, è una lettura un po' curiosa, perché partiamo da una fotografia di una realtà che magari lei conosce bene, però forse non tutti hanno presente nei dettagli. In Italia abbiamo un numero di emittenti locali che è un numero straordinario, diciamo di alcune centinaia, situazione anomala rispetto ad ogni altro paese. Qualche anno fa c'è stato il passaggio tecnologico dall'analogico al digitale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che mentre prima una frequenza corrispondeva a un canale, oggi una frequenza corrisponde alla possibilità di sei canali. Diciamo come fare due volte i canali di Mediaset. Con il cambio che è stato fatto ad ogni emittente è stato assicurato il cambio, come si dice, uno a uno. Cioè per una frequenza analogica è stata data una digitale. Cioè per chi aveva un canale oggi c'è la possibilità di sei canali. Questo, lo dico dal punto di vista degli emittenti locali, quando fu proposto, costruito, fu visto come una straordinaria opportunità. Chi immaginava di fare un canale di sport, uno di informazione locale, uno sociale e medicina, uno quello che si vuole. Poi si è visto che la realtà è molto più difficile, che non c'è il mercato per reggere tutti questi canali. E si è visto che quel passaggio, in quei termini, è stato un'illusione. A cosa è servito? Non alle emittenti locali. È servito a saturare lo spettro italiano in modo da, diciamo, occupare interamente le frequenze assegnate all'Italia. I maliziosi dicono che è servito a proteggere quindi il duopolio Rai Mediaset per impedire altri accessi. Io sono un po' fra questi maliziosi. Io non lo so, però so che il dato di fatto è che abbiamo saturato lo spettro. Non solo. Abbiamo occupato frequenze che non erano italiane, ma erano assegnate ad altri paesi. Questa situazione era nota a tutti. A tutti. Tant'è vero che un autorevole esponente delle associazioni delle emittenti private scrive al ministro dell'epoca dicendo, ma mi pare che siano state assegnate frequenze che non risultano assegnate all'Italia. Il ministro risponde a una frase degna di entrare negli annali. Il governo farà il possibile per tutelare le emittenti. E su questa generica rassicurazione ognuno sa contenta. Questo è il fardello che è stato di incertezza, che è stato posto sulle spalle degli editori, delle emittenti italiane, con i paesi confinanti che per anni hanno protestato dicendo ma scusate, quelle frequenze appartengono a noi. e si sono visti respingere con un muro di gomma di risposte anche imbarazzanti da parte italiana. Oggi questa situazione è venuta al pettine e va affrontata. Va affrontata. Non c'è una sola frequenza che è riconosciuta a Ginevra a livello internazionale. Perché? Perché l'Italia ha fatto un'assegnazione di frequenze con il limite che dicevo. Quindi il governo intende intervenire chiudendo questa pagina, riportando il sistema nella legalità internazionale, dando certezze agli emittenti e agli editori delle assegnazioni di frequenze che sono regolari, legittime, assegnate all'uso all'Italia e dunque registrabili a Ginevra, riconoscibili. Altro elemento. Lei dice dell'informazione. Ma fino ad ora, fino ad ora i contributi venivano andati senza tener conto di quanti giornalisti si avessero di quanta informazione si faceva. Fino a ora si davano, diciamo, contributi un po' a pioggia. Si parlava genericamente di numero di dipendenti, il che vuol dire che si poteva magari avere una serie di impiegati o di fattorini e fare televisioni. Avere un contributo dello Stato. Noi abbiamo detto che questo non è più possibile. Il valore del contributo dello Stato sta nel riconoscimento del ruolo che si svolge facendo informazione. Allora, noi metteremo criteri molto più rigidi che danno i contributi a chi ha un certo numero di giornalisti, a chi fa innovazione, a chi ha ascolti, a chi è gradito dal pubblico, a chi fa costante lavoro di impresa editoriale. Quindi, ho la sensazione che alcune critiche di questi giorni paradossalmente si rivolgano più al lavoro dei pompieri che a chi è stato l'incendiario. Devo dire che questo è un po' sorprendente. No, ma lei ci dà notizie positive sia sulla certezza delle frequenze sia sui contributi non più dati a pioggia ma selezionando rispetto appunto a chi tutela e porta avanti l'informazione nei territori. Ecco, dal punto di vista così della considerazione anche della platea dei giornalisti che lavorano nelle televisioni c'è indubbiamente un blocco cioè il blocco del turnover mettiamolo così ci sono tanti giovani purtroppo usciti dalle centinaia di corsi di laurea in scienze della comunicazione che a me parevano fra l'altro un po' troppi che bussano alle porte e non riescono ad uscire. Nei grandi gruppi editoriali nei giornali si è potuto come dire accedere in questi anni anche in modo abbastanza continuo a leggi di prepensionamento di 416 vincolate anche poi alla fine dei processi di ristrutturazione all'ingresso dei giovani questo potrebbe essere possibile anche in questo sistema? Sì Daniele parliamo con chiarezza sì pensiamo a un meccanismo che incentivi una possibilità di esodo per chi è vicino alla pensione e di ruoli per i giovani però qual è il problema? E vale per la carta stampata e per l'emittenza locale è che il mercato purtroppo dire non esiste eccessivo diciamo è molto stretto è molto stretto diciamo l'emittenza locale o la carta stampata vivono entrambi per i contributi dello Stato senza quegli elementi sarebbe difficile per le imprese sopravvivere ora perché allora c'è questo continuo impegno? perché la libertà la possibilità di un'informazione plurale è un elemento di democrazia e va assicurata tuttavia è difficile continuare a immaginare di poter costruire possibilità di lavoro e di espansione dell'imperità se non si ritrova una dimensione reale di mercato di business questo è il punto sostanziale di tutta l'operazione allora intanto va incentivato anche una selezione nel numero delle televisioni troppi hanno solo la targhetta sulla porta di emittente vivono dei contributi pubblici e non fanno attività di impresa non rischiano quindi criteri più rigidi anche per selezionare e poi il mondo del giornalismo è cambiato è inutile non è più lo stesso di quando noi abbiamo iniziato non è più lo stesso e questo indipendentemente da quello che il governo può fare il Parlamento italiano l'Europa io sono stato negli Stati Uniti il Wall Street Journal ha immaginato attraverso una start up un meccanismo di notiziario in rete che è fatto recuperando tutti i video postati dagli utenti sui social cioè il ruolo dei giornalisti non esiste più questo meccanismo incrocia il favore del mercato e degli utenti allora noi dobbiamo anche ripensare alle professioni e ai ruoli è inutile immaginare o chiedere che ritorni il passato come lo abbiamo conosciuto non tornerà più può piacere o non piacere si tratta di accompagnare i processi che creano un nuovo posto di lavoro Lotti molto bene sull'editoria ha creato incentivi per chi sposta in rete l'attività informativa dove il mercato è appena agli inizi e sta decollando allora vanno incentivati tutti quei percorsi che creano nuova occupazione però immaginare di rappresentare un quadro di una realtà economica dove tutto va bene con il governo cattivo che fa mancare gli ultimi 10 euro è un quadro che non esiste senza i contributi annuali all'emittenza privata io ancora mi riconosco come esponente di questo mondo o alla carta stampata ai quotidiani questi settori finirebbero questa è la triste realtà allora dobbiamo porci il problema come sistema paese come incentiviamo nuovi percorsi ma i ragazzi che vogliono iniziare oggi una professione va detto e va detto con chiarezza se vuoi una volta sarebbe interessante capire e discutere su come il sindacato anche dei giornalisti abbia accompagnato queste trasformazioni su che ruolo abbia svolto perché noi viviamo in un mondo dove la distinzione io vedo quando si parla dell'articolo 18 che parla una sciocchezza quando noi discutiamo del mondo dei giornalisti lo sappiamo bene nella stessa redazione a fare lo stesso lavoro c'è un collega che è ipertutelato dal contratto nazionale e c'è un collega che viaggia a cottimo o a contrattini con compensi ridicoli e fanno lo stesso lavoro certo allora c'è una situazione che viene da lontano allora bisogna mettersi a un tavolo insieme concretamente parlando di realtà e capire come si può affrontare questa trasformazione aiutando gli emittenti che vogliono scommettere sulla trasformazione e sull'innovazione però scoraggiando chi vuole semplicemente vivere di contributi pubblici sembra un ragionamento importante abbiamo parlato anche un po' di noi però è normale il sottosegretario della comunicazione è un'opportunità davvero interessante ma parliamo non solo di noi parliamo delle comunità locali perché il ruolo che svolge Toscana TV come tutte le altre emittenti toscane e vale per ogni ma è cruciale è un fatto di civiltà che in ogni comunità locale ci sia la possibilità di un'informazione plurale e non solo quella istituzionale quindi parliamo di un fatto questo dobbiamo spiegare che sta a cuore anche a chi ci ascolta perché il tempo in cui c'era un unico giornale un unico emittente non deve tornare si tratta di capire insieme però come possiamo fare concludiamo con una domanda che riguarda Prato inevitabile insomma il nuovo mandato di Matteo Biffoni che incontra anche delle difficoltà dialettiche istituzionali per esempio sul fronte del progetto per la nuova pista di Peretra insomma il suo giudizio su questo inizio di Biffoni Matteo sta facendo molto bene non solo perché si chiama Matteo ma davvero perché è un ragazzo entusiasta competente che ama e conosce la sua città che parla senza preclusioni con tutte le le componenti della città sta facendo molto bene lo si vedrà nella prossima riunione del tavolo Prato dove Matteo è riuscito a strappare cose importanti per Prato sia in termini di investimenti sulle infrastrutture di personale per il mondo della giustizia di sostegno per il sistema del distretto un lavoro importante spesso sotto traccia però portato avanti con determinazione sull'aeroporto non è colpa sua sull'aeroporto è la regione che ha sbagliato in postazione fin dall'inizio perché una scelta che appare come innovativa destinata a portare sviluppo per tutta almeno per tutta l'area della Toscana centrale beh come la si può immaginare fatta contro gli amministratori fatta non tenendo conto delle preoccupazioni delle critiche delle osservazioni degli amministratori qui è la critica che rivolga Rossi sta qui sta qui sta nella in una fase dove il coinvolgimento è mancato dove la corresponsabilità è mancata credo che Biffoni si renda conto anche dei limiti di questa operazione abbia scelto di contrastare o di stare dentro questo processo con gli strumenti della politica a mio avviso giustamente credo che a Prato ci siano sentimenti contrastanti da un lato il desiderio di ogni nuova opportunità di sviluppo di lavoro di crescita dall'altro il timore per l'impatto che una nuova struttura potrebbe avere sulla qualità della vita io penso che se la regione si muoverà in modo trasparente interlineare rassicurando dando certezze anziché solo diktat io penso che la fase di governo anche di questo processo ne uscirà rafforzata bene grazie grazie al sottosegretario della comunicazione Attenello Giacomelli grazie di essere stato con noi grazie a te e a voi in bocca al lupo e auguri anche di Natale grazie a chi ci ha seguito buonasera